È veramente difficile far emergere i sentimenti che si provano di fronte a una notizia del genere. Silvio Berlustoni, intanto incomincio a pensare a cosa ha rappresentato per me, ha rappresentato una figura di riferimento non solo dal punto di vista professionale e politico, ma innanzitutto dal punto di vista umano. Penso che sia una perdita gravissima per il nostro paese, perché Silvio Berlustoni ha rappresentato in questi ultimi 30 anni la parte più nuova della politica. È stato un grandissimo innovatore, un uomo che ha dato prestigio al nostro paese, un uomo che ha continuato ad essere ininterrottamente un riferimento a livello nazionale, a livello internazionale. E' chiaro che adesso rinunciare alla sua sapienza, rinunciare al suo riferimento non sarà semplice. Grazie.